E' un ritorno traumatico, sia per l'orario sia perché è il primo giorno di scuola. Mi aspetto, spero che sia il primo giorno tranquillo, come il resto dell'anno. Sì, che sia un giorno accogliente come tutti gli altri e che non ci carichino troppo di lavoro. Sì, i professori penso che saranno più tolleranti rispetto all'anno scorso, che sarà più facile rispetto all'anno scorso perché diciamo che l'impatto all'anno scorso non è stato molto buono. Spero che i professori siano più accoglienti all'anno scorso, anche se lo sono stato. Con i miei compagni di classe mi trovo benissimo. Anche i professori sono bravi, però molto spesso pretendono, anche perché fanno bene il loro lavoro, molto bene nella classe mia. Ci aspettiamo di ritrovarci con tutti i compagni e di divertirci e salutare tutti i professori. E' abbastanza bene, tranne la sveglia. Che tragica. No, niente. A parte forse qualche professore nuovo, ma il resto è tutto uguale. Vabbè, i miei compagni? No, sono sempre gli stessi. Abbiamo solo qualche nuovo, però ancora non sappiamo bene chi. E siamo sempre gli stessi, siamo uniti, ci siamo già incontrati stamattina. Perché? Non lo so, è diverso. Perché comunque l'anno scorso era un'esperienza nuova, invece quest'anno sappiamo già quello che succede. Grazie.